Dopo la prima chiama erano fuori i consiglieri Calvaruso, Caldarella, Gina e Di Bona. Per l'effetto diventano 15 su 15, ergo il numero legale non c'era e quindi la seduta è sciolta. È chiaro che i consiglieri comunali si assumono responsabilità nei confronti della città, è giusto questo? Ora possiamo andarci.